Dopo due anni di pausa legata alla pandemia torna ad alzarsi il sipario del Teatro Comunale Eschilo. Questa mattina è stato Francesco Longo, direttore artistico del Comunale di Piazza Sant'Agostino, a presentare la nuova stagione che prevede oltre quattro eventi di prosa, anche due musical e spettacoli dedicate al centenario della morte di Giovanni Verga con l'immancabile classico del Mastro Don Gesualdo. Si inizia il 27 marzo con un nuovo spettacolo della Compagnia Palermitana ai Sanzoni. Il ritorno dopo quest'estate, hanno avuto un grande successo, abbiamo avuto gente da tutta la Sicilia che è venuta a Gela. Speriamo la stessa cosa che appunto ritornino questa volta per vedere questi ragazzi di Palermo che sono veramente strepitosi e che stanno raggiungendo grandi risultati nazionali. Andranno Roma, Milano, per noi è veramente fondo d'orgoglio riospitarli a Gela con un nuovo spettacolo, ripeto. Poi abbiamo il 10 aprile Enrico Guarneri, il primo maggio Tuccio Musumeci e il 25 maggio Marco Bocci con uno spettacolo molto introspettivo, molto bello e poi insomma anche lui fa la sua figura. Ma questa è la stagione prosa. Ma c'è uno spazio anche dedicato ai ragazzi in due fasce. Ci sono quattro musical, che sono quattro favole praticamente, realizzate sempre in maniera teatrale, non è una proiezione ma è proprio teatro vero e proprio con scenografie, costumi e attori, in due fasce. La fascia domenicale per le famiglie e la fascia mattutina invece per le scuole. Che dirvi? Ah, dimenticavo, siccome quest'anno sono i 100 anni dalla morte di Verga, molti spettacoli, come molti teatri siciliani, stanno dedicando spettacoli e opere di Verga. Ci saranno due spettacoli, dal Mastro Don Gesualdo alla storia del Castello dell'Attrizza. Per l'assessore Cristian Malluzzo si tratta di un ritorno alla normalità, ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio, coraggio a riaffodare teatri, come ci vuole coraggio anche a creare iniziative culturali. Noi come amministrazione siamo vicini a chiunque vuole organizzare eventi per questa città e voglia fare in modo che Gela venga riconosciuta in un più ampio panorama regionale e nazionale. Non è voluto mancare alla presentazione del calendario il sindaco Lucio Greco. Rialzare il sipario del teatro eschilo di Gela della nostra città ci fa respirare un'aria di ripresa graduale alla normalità e rappresenta come sempre momenti di crescita culturale, sociale, economica della città a cui tutti taniamo particolarmente.